Ciao ragazzi, sono Cicci e Zanotti e oggi giocheremo al Bear Ok ragazzi, ho messo tutto il letto Ok, non facciamoci prendere lo scarpaggino Perché lo scarpaggino si farà del male Ho scoperto questo Però lasciamo i dettagli di sto gioco, ma non so quali E non... Adesso andremo a prendere un altro bellissimo Bear Se ce la farò Perché non ho capito una cosa Andiamo dentro il water Guardate Insieme a voi entriamo dentro il water Mi spiace Ma dovremmo entrarci Voglio capire come si fa ad entrare qui dentro, raga Come si fa? Vabbè, forse ci sarà un'altra entrata o non lo so E ma... Brutto topo di cacca Via Morto Devo sempre girarmi perché tanto mi uccidono da dietro Perché tanto mi saltano da dietro Quindi mi uccidono da dietro Quindi basta far così Girarmi e uccidermi Sono bravissima Ma questo gioco sono un pro. Allora, c'è pure mia sorella. Pum, 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 pum. Adesso ho guardato una magia. Cicco. Eccoci qui. Ok. E mamma mia, tom, tom. Sì, come? Perché non ci ho mai fatto. Allora, sì. E ma cosa servono sti robin? Ok, adesso dovremmo andare. No, perché sono arrivata fin qui. Vabbè, ho capito, è troppo difficile. Facciamo un altro berro. Dobbiamo prendere il... Un altro berro che possiamo prendere. Allora, ce ne sono tanti, ma non so dove sono. Vabbè, andiamo sempre sopra, comunque. Però è solo che ne ho già presi tanti di questi orsi, quindi... Non così tanti, ma non così. Quindi... Pum, 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 pum. Sop, pum, pum. Sop, tam, pum. No, ok, bene. Sop, pum. Sop, sop, sop. Ok, ragazzi, dovremmo cercare qui un altro berro. Ti schiaccio. Cacchetti, schiaccio. Cacchetti, schiaccio. Su, che ti schiaccio. L'ho schiacciato, mamma. Ma io vorrei cercare quel berro, guardate. Suoniamo un po' prima. Tum, tum, tum. Eccola, dov'è la chiave. Ma eccola sta birichina. C'ho un metodo. Avete visto tutti quella chiave là su, su quel comodino, questo qui, guarda. Dov'è l'ho persa? Aspettate. Dov'è un berro per trovarla. Ecco, quella chiave lì serve per prendere quel berro dentro quella... No, è già scomparso. Vieno, no, no, mi muovo. Ok, dovrò aspettare, dovrò salire su quel robo giallo, andare là, fare il megagalattico salto là, fare l'altro megagalattico salto là, poi prendere quella chiave, poi scendere, poi... In pratica mi mettere qui. No. Tum. Eccomi qui, ragazzi. Tum, tum. Uh, sono proprio brava, raga. Ce l'ho fatta. Oddio, no, stavo per cadere. Io sono un pro. Chiamatemi pure pro, raga. Chiamatemi pro come volete. Ma sono un pro. Cioè, raga, non so neanche caduta una volta, quindi... Un applauso a Cecilia. Ce l'ho fatta. Non so quanti bero ho preso. Ok, ragazzi. Usciamo. Perché tanto basterà solamente trovare delle chiavi. Però magari che non l'abbiamo già preso. Perché tanto dopo ti indica dove devi andare. Allora, sono il migliore a nascondino. Eh, sì. Oh, se mi direi di nascondino. Ma pensavo che mi trovevo qualcosa qui dentro. Vabbè. Sono molto sad da quello che ho visto. Perché non c'è niente. Non è anche qui. Non c'è niente. Ci ho visto l'altra volta, ma... Non c'è niente. Quella volta ci avrei visto prima. Però non c'è niente. Niente di niente. Ma qui si può entrare in sto formaggio? Perché nell'altro formaggio si può entrare. Vabbè. In ogni caso, cosa dovremmo prendere? Allora. Andiamo a vedere insieme, raga. Uiiiiiii. Boom, boom. Pizzam, boom. Ok. Scusatemi, ma dovevo cantare. Ehm. Devo trovare... Oh, il videogioco sta ancora continuando. Vabbè, non so come si prende, quindi... Lasciamo a vedere. Ma scusa, quanti bear devo prendere ancora? No, fatemi vedere una cosa. Devo stare attenta perché adesso mi scompaio quel robino. Il robino è un tiziano. Puma. Puma. No, puma. Non c'è puma. Sì, da puma. Ok. Dovevo prendere il robino. Il robino. Ma perché io ho cato, ragazzi? Non è normale. 35 anni. Ah, finalmente sono arrivato qui. Ok, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate il like e iscrivetevi al mio canale. Ehm. Dai.